Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fissa la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio italiano a 82.705 lavoratori. La quota annuale è un aumento rispetto alle 69.700 dell'anno precedente. Il nuovo decreto stabilisce un'importante novità precisa alla Col di Retti. Sarà anche l'occasione per sperimentare il superamento nel nulla osta sostituito da una comunicazione allo sportello unico per l'immigrazione da parte del datore di lavoro contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Per quanto riguarda le quote per lavoro stagionale attese principalmente nelle campagne per garantire le campagne di raccolta estive e il lavoro ordinario, queste, sottolinea la Col di Retti, ammontano a 44.000 unità, delle quali 1.500 sono riservate alle nuove richieste di nulla osta stagionale, pluriennale. In Calabria i lavoratori stranieri tra forma continuativa e saltuaria sono oltre 19.000, alcune quote sono riservate in primis ai lavoratori di paesi con cui entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. e a quelli che abbiano completato programmi di formazione nei paesi di origine e alla richiesta presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro che assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori. La vera e importante novità di questo provvedimento è rappresentata infatti, continua la Col di Retti, dal consolidamento e riconferma del rilascio di quote d'ingresso riservate alle associazioni di categoria per i propri associati nella misura di 22.000 unità. Più volte come Col di Retti siamo intervenuti sulla difficoltà di trovare la mano d'opera da impiegare nei diversi settori produttivi, ortofrutta, zootecnia, agriturismo. In diversi distretti agricoli della regione i lavoratori immigrati sono una componente integrata nel tessuto economico e sociale. Si tratta soprattutto di lavoratori dipendenti a tempo determinato che arrivano dall'estero e che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio paese. Spesso stabilendo delle durature relazioni professionali, oltre che di amicizia, con gli imprenditori agricoli, sta crescendo a nota, infine Col di Retti, anche la presenza di stranieri alla guida di imprese agricole.